Benvenuti in Catena. Catena Orologi è un marchio che nasce dalla passione e dalla tradizione dell'orologeria svizzera, fondata nel 1925 da Alfred Kurt, a Grinken, in Svizzera. L'azienda si è sempre dedicata alla creazione di orologi di alta qualità, con particolare attenzione al design e alla precisione. La collezione di orologi Catena comprende numerosi modelli di successo, tra cui il Cronograph Automatic, il Super Square, il Diver 200 e il Moonface, tutti caratterizzati da una qualità e un'eleganza senza paragoni. Catena Orologi produce modelli eleganti e sofisticati, come il Cronograph Automatic, un orologio con movimento automatico con la funzione di cronografo, e il Super Square, un orologio con quadrante quadrato e cassa in acciaio. Catena Orologi produce anche modelli sportivi e resistenti, come il Diver 200, un orologio subacqueo con una resistenza all'acqua di 200 metri, e il Moonface, un orologio con indicazione delle fasi lunari. Un altro modello iconico di Catena è lo Space Star, un sofisticato orologio da taschino, che ha catturato l'attenzione di appassionati di orologi in tutto il mondo. Questo orologio unico ha una storia affascinante e rappresenta la sintesi del savoir-faire orologero svizzero. Catena è un marchio che ha saputo conquistare il cuore di molti appassionati di orologi, grazie alla sua storia, alla sua qualità e al suo design. Catena Orologi è anche un marchio che non smette mai di sorprendere, con la sua capacità di innovare e di proporre nuove collezioni, sempre in linea con le tendenze e le esigenze del mercato. Catena Orologi è il marchio ideale per chi cerca un orologio di qualità, eleganza e originalità.